con il Lettere Giornale per i sordi. Altri 208 nuovi casi, 4 morti purtroppo per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore, secondo il consueto rilevamento giornaliero della Regione Toscana. Le ultime vittime sono state nelle aree di Firenze, Massa, Carrara, Siena e Grosseto. Il totale dei decessi sale a oltre 11.600 dall'inizio dell'epidemia. La Giunta regionale della Toscana, su proposta dell'assessore alla mobilità e trasporti Stefano Baccelli, ha approvato una delibera per assegnare fondi per un totale di un milione e mezzo di euro alle province e alla città metropolitana di Firenze per il trasporto pubblico locale. Il Tribunale di Pisa ha condannato l'Inail a riconoscere una rendita per malattia professionale ad un uomo di 73 anni della città, già operaio in vetrerie del posto, il quale, a causa dell'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, nel 2015 ha contratto un carcinoma bilaterale ed è stato sottoposto a due interventi chirurgici invalidanti. Andiamo adesso a Firenze. Attivisti ambientalisti, pare due, hanno imbrattato in una tarda mattinata di vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio e sono stati bloccati dal sindaco Nardella che proprio in quel momento stava effettuando un sopralluogo sull'arengario. Subito scattate le operazioni di pulizia della facciata di Palazzo Vecchio imbrattata, come dicevamo, da alcuni ambientalisti. Tra coloro che hanno partecipato a questa pulizia del rivestimento in pietre anche lo stesso sindaco Nardella che è salito su un ponteggio mobile munito di tubo dell'acqua e spazzola con cui provvede personalmente, ha provveduto a rimuovere l'imbrattamento della facciata. Condanne su questa vicenda da parte di tutte le istituzioni. Ancora è cronaca trafugato a un dipinto della Basilica di San Lorenzo a Firenze a dare l'allarme un dipendente dell'opera laurenziana che ha denunciato il furto ai carabinieri. Si tratta di un dipinto su tavola di fine ottocento di autore ignoto ritraente la Madonna di Loreto che era collocato sull'altare della Compagnia delle Stimmate al piano interrato della Basilica. So che ormai i tempi per l'arrivo della Golar Tundra a Piombino diventano davvero di poche ore. Sarò avvertito nel momento in cui arriva e voglio essere lì per rendermi conto come si cala all'interno di quella struttura del porto dove sono stati fatti i lavori ed è tutto pronto. Queste le parole del Presidente della Toscana Gianni a margine di un evento a Firenze parlando dell'arrivo della nave gasificatrice che dopo aver superato il canale di Suez sta navigando verso l'Italia. Torniamo alla cronaca. Da una segnalazione per un trolley sospetto spuntano pensate 11 kg di ascisce e quanto accaduto a Castellanselmo, un paese di collina alle spalle di Livorno dove i carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione da parte di alcuni operai di un'impresa che stava effettuando lavori di manutenzione. La ASL Toscana Sud-Est rende noto il sospetto per un caso di meningite verosimilmente di origine batterica in un giovane paziente del Valdarno che si trova ora ricoverato in condizioni stabili all'ospedale San Donato di Arezzo. Si sta avvicinando la Pasqua e torna a Grassina la celebre rievocazione storica della Passione di Cristo la Via Crucis messa in scena davanti a migliaia di persone. Appuntamento la sera del venerdì santo 7 di aprile nella versione integrale riproposta dopo le ultime in forma ridotta a causa della pandemia. Pertanto quest'anno accanto al corteo storico con centinaia di figuranti in abiti d'epoca tornano le suggestive scene recitate sulla collina del Calvario. Dario Danti, e siamo alla politica, è il nuovo segretario toscano di Sinistra Italiana. Lo ha eletto l'Assemblea regionale con il 56% dei voti. Inoltre è stata eletta tesoriera regionale Irene Falchini, 26 anni, consigliera comunale il capogruppo di Sinistra Italiana a Sesto Fiorentino. A Carrara un uomo di 35 anni del Marocco è stato arrestato dai carabinieri che gli hanno sequestrato 15 dosi di cocaina pronte per la vendita insieme a diversi grammi di hashish. L'uomo è stato catturato dopo un inseguimento nella zona di Ponte Cimato dove i militari dell'arma hanno intensificato negli ultimi tempi la vigilanza nel tentativo di contrastare lo spaccio. A 15 anni esatti dalla morte, Firenze intitolerà un giardino a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari e cittadina onoraria. La cerimonia si svolgerà domani sabato nel giardino di Via Senese alla presenza dell'assessore Giuliani e dei rappresentanti dei Movimenti dei Focolari. Una Mercedes nera imbottita con 55 kg di hashish. La scoperta è stata fatta dalla polizia a Firenze nel corso di una serie di controlli straordinari. Arrestato il conducente, accusato di essere un corriere della droga. Fermato dalla polizia per un controllo a Prato, ha mostrato agli agenti una patente straniera falsa comprata su internet. E prima di concludere, il meteo per la giornata di domani. Cielo in prevalenza velato, ma con umbi basse in nottata e in mattinata su costa e arcipelago. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dal sud-ovest, fino al cielo molto nuvoloso o coperto. Venti deboli meridionali, moderati di scirocco sulla costa e arcipelago. Mari poco mossi, tendenti a mossi. Ed è tutto per questa edizione. Grazie di essere stati con noi. Arrivederci a domani.